Condividi 9 dicembre 2017 Pidi ancora in calo nei sondaggi, attorno al 25%. Per la prima volta, sotto quota 25,43%, la percentuale ottenuta da Pierluigi Bersani alle ultime politiche. Si allarga la distanza tra Forza Italia e Lega, avanza, 5 metri S che è primo partito, continua a crescere liberi e uguali di Pietro Grasso, dato tra il 6,6% e il 7,6%, ben oltre la somma di MDP si è possibile. Sono questi i dati convergenti forniti da due sondaggi pubblicati da Repubblica e Corriere della Sera, che segnala tra indecisi e non voto un astensionismo del 35,3%. Secondo Repubblica, il movimento grillino da ottobre a oggi passa dal 27,6% al 28,7%. Flessione, invece, per il Pidi che, nello stesso periodo, cala dal 26,3% al 25%. Avanti di un punto Forza Italia, che al 15,2% e stacca la Lega, A ottobre Berlusconi e Salvini erano appaiati, attorno al 14%, oggi i Lombard sono calati sensibilmente, sino al 13%. Stabile FDI con il 4,8%. La nuova formazione guidata da Grasso avanza sino a raggiungere 7,6%. Il sondaggio stato, curato da Demosepi per Repubblica. Rilevazione dal 4 al 7 dicembre. Condotta da Demetra con metodo Mix Mode. Katika Amikav. Campione nazionale. N. Uguale 1152. Rifiuti slash sostituzioni 11759. Rappresentativo per caratteri socio-demografici e distribuzione territoriale della popolazione oltre gennaio 18 anni. Dati analoghi anche sul Corriere della Sera. 5 metri s sempre, primo partito sale al 29,1%. Il Pidi cala al 24,5%. Anche qui FI si allontana dalla Lega, raggiungendo quota 16,7%, con il Carroccio in calo, ora al 14,4%. Stabile anche qui FDI, al 4,9%. Infine, liberi e uguali. Come primo rilevamento si attesta bene al 6,6%. Questo sondaggio realizzato da Ipsos Pia per il Corriere della Sera, preso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana secondo genere, et, livello di scolarit, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Per dare stabilità alle stime di voto, i risultati sono il prodotto di un'elaborazione basata su un archivio di 5.023 interviste svolte nell'ultimo mese, cui si sono aggiunte ulteriori 1.001 interviste, su 4.322 contatti, condotte mediante Mixed Mode, Kati slash Kami slash Kav, tra il 5 e il 6 dicembre.